Ciao artisti, questa settimana vi presentiamo un nuovo prodotto della famosa linea Dermalize, Dermalize Pro Total Black Sunblock. Perfetto per il periodo estivo, questo nuovo prodotto della linea Dermalize mantiene tutte le caratteristiche che l'hanno contraddistinto e reso famoso. Dermalize è una pellicola studiada appositamente per la cura e la protezione del tatuaggio. La nuova versione Pro Total Black integra nella pellicola una barriera ideale contro la penetrazione dei raggi UVA e UVB, rendendolo perfetto non solo per la cura del tatuaggio ma anche proteggendolo dal sole. Per acquistare nuovi prodotti Dermalize basta andare su bodysupply.com o cliccare il link in descrizione. Se avete ancora delle domande o volete dirci cosa ne pensate di questa novità, scrivetelo pure qui in basso nei commenti. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo. Ciao artisti! Grazie a tutti!